e ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo episodio di shark in minecraft Steve è felicissimo di vedervi e ora andiamo a costruire prima di tutto ragazzi mi voglio scusare con voi perché nello scorso episodio c'è stato problemi con il ritardo della voce non so cosa sia bene successo non lo so veramente scusatemi detto questo andiamo avanti oggi lo so che l'altra volta ho detto che avevamo fatto la ferma automatica di pop corn di grano però ho cambiato idea ho cambiato idea oggi voglio fare un episodio tranquillo quindi ho deciso di farci una bella spiaggia privata che ne dite? qui una bella spiaggiatina eh? ragazzi sto scherzando ovviamente la spiaggia la faremo però non così infatti se guarda se vedete porca miseria dall'altra parte della montagna c'è un lago enorme allora io cosa ho pensato di fare una... com'è che si chiama? un po' un'apertura un qualche cosa insomma un arco una galleria ecco non mi veniva il termine tecnico ho deciso di fare una galleria nel muro e sfociare direttamente qua poi vabbè sistemeremo sistemeremo io a telecamera spenta per renderlo ancora migliore che ne dite eh ragazzi? un episodio tranquillo ogni tanto ci vogliono questi episodio qui bene non perdiamo tempo e mettiamoci subito subitissimo all'opera allora vediamo un po' anche Steve è contento sta saltellando guardate è contento ci vorremmo io farei partire delle scale proprio da qua che sembrano scogli poi quindi delle scale di cobblestone ci vogliono 41 non so se bastano eh che cavolo fai le video me le torce ok piazzi piazziamo 1,2,3,4 nooo porca miseria 1,2,3,4 ok 10 sta arrivando la notte buongiorno la pala pala dov'è la pala eccola qui ripetiamo questa zona 1 nooo che pirla che pirla nooo che pirla nooo che pirla non ho sbagliato a prendere misura ragazzi porca miseria ecco si proprio lì la volevo porca miseria mi sono avanzate delle scale porca miseria e vabbè ecco togliamo questa scala in più e facciamo un passaggio su sulle acque e diamo io sì direi di provare con le slab di cobblestone sinceramente non mi dispiace vediamo un po' come stanno eh sì io direi che questo può bastare per il momento a caso allarghiamo intanto tappiamo tutto qua bene così ragazzi ora facciamolo la forma dell'arco non sarà semplice quindi piccolo stacco piccolo stacco e ritorno fra due secondi per voi e tanto per me ok ragazzi sono riuscito a fare una specie d'arco eccolo qua non è il massimo lo metto ma non so usare bene i cubi in minecraft allora vediamo un attimo come sta con queste mmm ci stona ci stona cioè ci starebbe anche bene ma ne dobbiamo spostare di uno niente ragazzi si torna ai vecchi santi to ho sbagliato scusa ecco fatto ragazzi adesso non ci resta che scavare il tunnel ci vediamo appena vedo la luce a dopo ok ragazzi guardate il ponte sta prendendo il punto il sottopassaggio si il sottopassaggio insomma l'ambaratrattico stava prendendo forma io lo finisco e ci becchiamo dopo ragazzi a dopo a dopo a dopo il sottopassaggio il sottopassaggio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.